Il parco Tredenti Freidur è un'area protetta di interesse provinciale e ha una superficie di 820 ettari. È ricca di vette, dai Tredenti al Freidur, di aree per ristoro, la pradera, di costruzioni per l'accoglienza, la casa dei cavatori ed è anche ricca di sentieri e strade sia per le passeggiate sia per le mountain bike. Diciamo che abbiamo valorizzato ulteriormente l'importanza del parco con il grande incendio dell'ottobre-novembre del 2017 quando abbiamo visto tante associazioni di volontariato e tanti comuni cittadini che si sono impegnati attivamente in quei giorni per dare una mano per fermare questo immesso incendio. Io credo che questo sia un dato importante e che significa che il parco è una realtà vera, sentita e soprattutto accettata dai cumianesi che lo vogliono mantenere e migliorare per il futuro.